Un'altra maniera ancora Per ruotare sul piano orizzontale Spingo fino a cercare la spalla opposta La spalla opposta, l'avversario ruota, assorbe e si ritorni indietro Quindi usiamole anche We use our hips e all body Tenete presente che la forza nel KQE La forza, la potenza La potenza arriva dal vostro leggo e dal vostro hips La potenza arriva dalle gambe e dalle armi Non dalla forza del braccio La potenza arriva E' tutto l'interno E' tutto l'interno E' tutto l'interno E' tutto l'interno L'interno Grazie a tutti.